Per contrastare il rischio di infiltrazioni camorristiche nella festa del Gigi di Barra, l'assessorato alla sicurezza del comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il presidente della Sesta Municipalità, Anna Cozzino, ed il referente del comitato organizzatore della festa, Luigi Credo. Una commissione comunale costituita ad hoc vigilerà sulla manifestazione, evitando ogni forma di ingerenza da parte di organizzazioni criminali. Le organizzazioni camorristiche della zona di Barra o delle zone vicine, perché non si tratta soltanto dei clan di Barra, hanno cercato di impadronirsi di uno o più momenti di questo evento. Questo protocollo e questa intesa preveda che il privato, il comitato organizzatore, i comitati Gigli, sono sette i comitati Gigli, abbiano una serie di obblighi stringenti. D'intesa con il comitato organizzatore, il comune di Napoli riceverà infatti con largo anticipo la documentazione necessaria a verificare la regolarità dell'evento, che si svolgerà solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni previste e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate. Un segnale importante per la cittadinanza, soprattutto per la comunità barrese, è per i tanti cittadini onesti di quella municipalità che chiedono di mantenere salda la loro tradizione culturale. L'obiettivo è questo, restituire ai cittadini la festa dei Gigli che sia la festa dei cittadini e non la festa della camorra.